Spaccate il tasto like Spaccate il like Vai Dexter quanti like chiediamo per questo video Spaccate il like, 100.000 mi piace pettatino Raga passate da Instagram Sì Bella ragazzi bentornati sul mio canale Siamo qui oggi con un nuovo video Su COD Siamo tornati con la nuova sfida challenge Con Chubby Bunny Challenge Ovviamente ogni volta cambio Lo scorso episodio mandarini Lo scorso episodio Banana tagliata a pezzi E questa volta invece Patatine Vabbè pai Le sono le pai raga Quelle classiche Le palle Le patatine Quelle rotonde Ovviamente ogni morte Le metteremo in bocca Due perché sono piccoline Quindi Partiamo subito Andiamo su COD Partita pubblica Trova una partita Ok ragazzi Partita trovata Siamo su dominio Su Evac Porca puttana Evac Ok Allora Dobbiamo assolutamente Non morire Perché se moriamo Chubby Bunny Challenge Con le patatine Usiamo quest'arma qui Che dovrebbe essere quella A tre A raffica Anche perché Abbiamo già i nemici qua Oddio C'hanno le palle Raga Bene Quindi lancia puffi Allora ne mettiamo due Una E due Chubby Bunny Non dobbiamo masticarle Perché se no La sfida non vale Si vede Si vede che ho imbratto Tutto il joystick Raga Allora Sono qua Ok Si vede che non gioco Da tanto da COD A COD Altri due Forse Forse era meglio Farne uno alla volta Raga Perché Non pensavo Non sono proprio Così piccole Eccoli Lo vetti Olè Uno fatto Due andato Torniamo tutti sulla sinistra Tanto arrivate di nuovo Da di qua Me lo sento Allora Andiamo 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 Regà Andiamo a prenderlo Prendiamo A No 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 Da dietro Vabbè Due Questi cosi ci sciogliano in bocca Quindi Regà Uno Allora due Non lo sto masticando Lo sto solo Spostando a sinistra Diventano una pappetta Ste cose Mamma mia Regà Che mira di merda Che ho su COD Eh vabbè Eh vabbè Mi è venuto a prendere Mi è venuto Altre due Uno A due Ma che ce l'ho Oh E vabbè Però è appena nato Che squadra di merda Che ho comunque Mettiamo A Mettiamo anch'io La CUDA Che è forte A Uno A due Regà Non stiamo Di qua sotto Un'altra Stavo dicendo Stavo dicendo Non siate Mi va sotto Un'altra sfida Vabbè Però Ah ce l'ho dietro Ma che cavolo No regà Non mi insultate Perché mi sto giocando Ma è da tanto Che non c'è qualcosa Davvero tanto Vabbè Uno A due Vabbè Se non moriva Bestemmiavo Ma lì c'è niente No Mamma mia Che pro player Oddio Le kill Le kill No Mi sto abbassando Altre due Ed è pure finita Ok Ok Ovviamente L'ultimo a morire Sono io Ok Eccoci tornati Ovviamente Il deathmatch È già iniziato Ma da poco Quindi Per renderlo Ancora più difficile Usiamo il cecchino Anche se Stamappa mi piace davvero tanto E non si gioca Col cecchino Stamappa Però vabbè Per renderla difficile Usiamo il cecco E qua raga Andiamo noi Anche se È rischioso Facciamo i no scoop A caso Dov'è No Ma dov'era Ma questo Sparava pure lui A caso Ok Ne mettiamo tre Raga Uno Due Altra Così è più Diventa più epica Che pro player Ma guarda Dove è Mi sembrava morto Ma che camper è Ma non ti fai schifo Dove sei Ancora lì Ancora lì Ancora lì Boh Dove è Ma ci No vabbè Ma che cazzo è La partita di camper Questa raga Ma cos'è Vabbè Uno Due Ecco Tanto Sicuro Il palaz Mi commenta nei commenti Tati Se fortino Aggiungimi Dai Esci la testolina No Uno Batteria a terra E vabbè Che palle Però Comunque Ho trovato la sala Di camper Uno Due E Ecco La quinta Lasciamo Un Vabbè Eccolo No Mamma mia Che più Sbio No Per poco Per poco E comunque Camperanno da fare schifo Questi Davvero Raga Fanno schifo Questi Uno Due Ecco No Oddio 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 Mamma mia Che pro player No niente Raga A parte che le patatine Si sono sciolte in bocca Senza masticare Però Ogni volta che muoio Devo mettere Una manciata di patatine Così Ok Così Va bene Oddio 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 Mamma mia È assoluta Assoluta Oddio 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 Vabbè ragazzi Spero che questo video Epico Vi sia piaciuto Non posso altro che dirvi Di spaccare like Iscrivervi Se non avete ancora fatto Vabbè ragazzi Consigliatemi Quest'altro Una sfida challenge Epica Come questa Magari anche più epica Fatto 7-9 Tra l'altro Col cecchino Fatto delle kill Pazzesche Abbiamo Abbiviso E io non gioco Spesso Anzi Come ben sapete Gioco praticamente Al 90% A fifa E a minecraft Ultimamente Comunque Spero che questo video Vi sia piaciuto In caso contrario Scrivetemi Perché no Ma spero di essere stato Anche simpatico Anche se non è stata Una chubby bunny challenge Perché Ste patatine Ci sciolgono in bocca Comunque Datatino è tutto Spacca del like Iscrivetevi Perché se no Siete game over Tutti i link Li trovate qui sotto Nella descrizione Datatino è tutto Bella Ovviamente Spacca del like Don't be scared Scrivetevi Scrivetevi